Siamo italiani Siamo italiani Un po' da tutti invasione di immigrati Minniti che però perde nel collegio uniluminale a Pesole Contro un incandidabile come c'è con il Movimento 5 Stelle Voglio capire, siccome il tema dell'immigrazione è così importante per gli italiani Visto che una persona aveva cercato di fare qualcosa Poi capiremo se ha fatto secondo lei bene o male Il risultato che però è arrivato e uscito dal voto come lo giustifica? Allora, tre cose prima di tutto Partiamo dal voto Il voto di Minniti a mio avviso prescinde dall'azione di Minniti Nel senso che per come era stata diciamo fatta la legge elettorale E questo credo sia di responsabilità del partito di maggioranza Che ha fatto approvare questa legge a colpiti fiducia, quindi il PD È una legge che depotenzia i candidati e dà molto potere al simbolo Io sono andato a votare, ho visto il simbolo del partito che volevo votare e l'ho votato Molte persone votano indipendentemente dal candidato Non c'è da scegliere la preferenza Se anche mi piacesse un candidato e mi piace un altro partito non posso disgiungere il voto La prevalenza netta è stata per il partito Tant'è che ha vinto Cecconi ma ha vinto il Movimento 5 Stelle Cioè non è stata un'anomalia all'interno della regione Il Movimento 5 Stelle ha preso più o meno gli stessi voti ovunque Quindi direi che non è una bocciatura di Minniti in senso stretto Lo dico come paradosso Ma se avessimo avuto candidato Minniti in centro a Roma e Gentiloni nelle Marche Avremmo avuto Gentiloni bocciato, Minniti promosso Avremmo fatto due ragionamenti diversi Secondo tema, la questione invasione e la questione operato di Minniti C'è stata nel corso degli ultimi due anni indubbiamente un'emergenza sbarchi Io la chiamerei così Ma secondo me l'emergenza sbarchi Per il suo portato simbolico delle persone morte in mare Dei cie pieni di Lampedusa invasa Ci ha fatto dimenticare un altro tipo di discorso Che se anche i migranti fossero in meno E quest'anno lo sono di meno Il tema vero è la gestione sul territorio Che vuol dire? Del fenomeno Vuol dire una serie di regole disattese Faccio un esempio su tutti Il fatto che ogni comune deve avere tre migranti ogni mille abitanti Se non ricordo male Tre richiedenti asilo ogni mille abitanti E questa percentuale molto spesso disattesa I tempi lunghissimi di identificazione e di esame delle richieste d'asilo Perché, e qua secondo me un piccolo salto nel passato va fatto Perché col suo sistema, diciamo, con i margini stretti Che aveva introdotto la legge Bossi-Fini sull'immigrazione Che è una legge di tanto tempo fa Dove non c'era ancora, diciamo, questa emergenza Di fatto richiedere asilo politico Era l'unico modo per avere accesso sul nostro paese Senza essere rispedito a casa immediatamente Senza essere clandestini Il risultato è tutta una serie di migranti economici Che con la turco-napolitano Erano in qualche modo divisi in quote Arrivano in Italia e richiedono asilo Anche se non ne hanno diritto Quindi le richieste d'asilo aumentano E diventa molto difficile gestire il plus Terzo problema La gestione nell'attesa della richiesta d'asilo È molto spessa lasciata all'improvvisazione Agli accordi della prefetture Proprietari di immobili sfitti e cooperative sociali E molto spesso in situazioni di difficoltà Ma se lo chiede a un sindaco di centro-sinistra Le dice la stessa identica cosa Dice, c'è una piazza Metto il wifi per i cittadini I cittadini sono contenti Arrivano 50 profughi Quei 50 profughi devono collegarsi a casa Non fanno niente Perché non possono far niente Hanno il loro telefono Senza abbonamento Si collegano a internet Usando l'unica piazza del wifi Ecco che una cosa bella Diventa un luogo dove si percepisce insicurezza Ecco che un quartiere Nasce una discussione Nasce un confronto Che magari può scaturire Far nascere delle problematiche Come poi vedremo Di scaturita Firenze Ripeto Lodi è una città che ha Io vengo da lì Una percentuale di richiedenti asilo Abbastanza gestibile C'è un parco vicino alla stazione Dove io passavo tutte le sere E c'erano d'estate Le signore anziane Con le loro badanti giovani Rumene Centroamericane Di fatto sono sparite Perché queste ragazze Erano spaventate Dall'afflusso di questi 50 60 ragazzi Richiedenti asilo Che magari bevevano Che magari facevano un po' di cacciara Non necessariamente avevano un atteggiamento Non necessariamente erano spacciatori Tutto un insieme di queste situazioni Ha prodotto un senso di sicurezza Che non possiamo cacciare indietro Semplicemente dicendo Gli sbarchi sono diminuiti del 35% Perché è una percezione reale Sui territori Voglio capire invece da Brianza Oltre ad avere un commento Appunto al voto Da cui è partito anche cancellato Poi il tema dell'immigrazione Voi l'avete in qualche modo Giustamente cavalcato Ne avete parlato E come si riuscirà a iniziare Poi dovremmo iniziare a capire Come riuscire a mantenere Poi le promesse fatte E riuscire a trovare Delle risultate Che auspica anche Per esempio cancellato Sulla questione del voto Condivido assolutamente L'analisi fatta Cioè si barravano i simboli Preferenze non ce n'erano Al contrario per esempio Delle regionali Certo Nomi già indicati E quindi salvo alcuni casi In cui erano proprio evidenti Nella maggior parte dei casi Ma è stato poi anche il messaggio Che è stato mandato ovunque Dalle televisioni Agli spot elettorali Era di barrare il simbolo Quindi al di là di tutto Il risultato poi è in linea Con quello che è stato il risultato Del PD in tutta Italia Per quanto riguarda La questione immigrazione Sbarchi eccetera Se il problema fosse Il wifi Dove si connettono 50 profughi in piazza Potremmo anche sorvolare Sulla connessione al wifi Il problema è un'emergenza Che non è stata assolutamente gestita Che ha portato a numeri impressionanti Che ha portato ad avere Tutte richieste d'asilo Di cui ormai sappiamo anche Che 8 su 10 Non sono in alcun modo fondate Sappiamo che sono tutti Migranti economici Sappiamo che c'è una gestione Assolutamente impropria Che va a discapito Dei territori Dei sindaci Che soffrono questa cosa Che la vivono Come un'imposizione Un'imposizione E di mezzo Ci mettiamo anche i prefetti Che tutto sommato Poco possono fare Se non cercare di gestire Queste quote Sul loro territorio E alla fine poi ci troviamo Con chi su queste persone Ci fa business Perché ricordiamoci Che parliamo anche Di cifre importanti Di soldi che girano E quindi alla fine C'è anche Chi su questo ci fa Ampiamente business E ci troviamo In una condizione In cui le stesse prefetture Sono nell'obbligo Di reperire Delle situazioni Abitative Di imporli A comuni E a sindaci Anche a comuni piccoli Di far vivere la gente Nell'insicurezza Perché ahimè Poi quando tu lasci una persona E non parliamo di un mese Di sei mesi Ma parliamo Mediamente di tre anni Perché dal momento In cui c'è la richiesta Di asilo Si inizia il percorso Per l'esame C'è magari un primo rifiuto Ma poi va spesso A aumentare Beh c'è un primo rifiuto 100% si fa ricorso Quindi la cosa si Prolunga A tempo Praticamente indeterminato Al netto poi Che anche alla fine Quando c'è il rifiuto definitivo Il rimpatrio Non si verifica Quindi da lì poi E poi si apre un altro Il discorso dei 630.000 Io ricordo Ripeto senza Per questo vogliamo dare Una visione politica Della cosa Ma le più grosse sanatorie E le più grandi difficoltà Che noi abbiamo visto In questi anni Quando i numeri Sono molto minori Peraltro Quindi parliamo Dei governi 2008 2011 Più o meno Io mi ricordo Le sanatorie Fatte dal governo Berlusconi Mi ricordo Dell'impossibilità In qualche modo Anche pratica Di attuare Quel pezzo Della Bossi Fini Che imponeva Di fatto L'accompagnamento Alla frontiera O l'impatrio forzato Addirittura Delle polemiche Con la corte costituzionale Da questo punto di vista Vi interrompo adesso Perché voglio La questione è delicata È molto delicata Anche la fantasia Su questo tema Ma tanto il tema Immigrazione Adesso poi Quello di cui parleremo Perché voglio capire Anche un po' Come verrà gestita All'interno del centrodestra Perché ci sono comunque Anche lì Dei desideri Che non sono Non collimano Proprio perfettamente Tutti quanti Per esempio Spesso la Lega È stata Con delle posizioni Un pochettino più estreme Rispetto a Forza Italia Ma dopo ci entreremo Voglio sentire invece Come si posiziona La fantasia Rispetto a quello Che ha sentito Rispetto al risultato Uscito dalle urne E ciò di cui Si stava parlando In questo momento Quindi il problema Dell'immigrazione E come è stato gestito Da Minniti Ma rispetto al risultato Uscito dalle urne Io penso Che in realtà Ci sia Quello che è successo È che ci sia Una grande quantità Di popolazione Nel nostro paese Che negli anni Della crisi Si è impoverita Che non vede Prospettive di futuro Che ha un'insicurezza sociale Che è generale E che questo Abbia fatto sì Che ci sia stato Un voto Per cambiare Radicalmente Che siano stati puniti Coloro che erano Al governo Coloro che hanno Portato avanti Le politiche D'austerità Che hanno Impoverito Il mondo del lavoro Che hanno Lasciato tanti giovani Nella precarietà estrema Nella disoccupazione E che questo voto Di cambiamento Si sia incanalato In parte Nel Movimento 5 Stelle Che lo dicono Anche in larga parte Nel Movimento 5 Stelle Che anche Diciamo così L'analisi del voto Più dettagliata Che viene fuori Dice è stata votata Dal ceto medio Impoverito Dai working poor Cioè dalle persone Che lavorano Ma sono poveri E dai giovani Senza prospettive E in parte Nei confronti Della Lega Perché questo bisogno Di sicurezza È stato tradotto Nella sicurezza Contro i migranti Noi non pensiamo Che il problema Sia l'immigrazione Non c'è nessuna invasione Lo dico Perché Questo dice la realtà Perché innanzitutto Le persone Che scappano Dalle guerre I rifugiati Vanno accolti Perché vanno costruiti Canali legali Per l'immigrazione Che invece Sono completamente bloccati E perché comunque I numeri Parlano Nel 2016 Di 181.000 persone Che sarebbero Per l'appunto Assolutamente gestibili 3 per ogni Mille abitanti Come veniva detto Quindi Non c'è nessuna Immigrazione C'è chi ha lucrato Sul senso di insicurezza Delle persone Per dire La responsabilità È dei migranti Noi pensiamo Invece Che la responsabilità Sia delle enormi Disuguaglianze Che questa società Vive Della perdita Di garanzie Sul futuro Del fatto Che il lavoro È precario Che in pensione Si va sempre più tardi Perché c'è stata Una controriforma Cioè che il problema Sia la sicurezza sociale Mentre i numeri Tanto dell'immigrazione Quanto Diciamo Della criminalità Perché poi Viene associata a questo Sono tutti numeri Che sarebbero Gli uni Assolutamente gestibili Mentre quelli Sulla sicurezza Ci parlano Di una diminuzione Secca Dei reati In questo paese In particolare Dei reati Violenti Assolutamente no Anche perché poi Tra l'altro Volevo proprio Assolutamente no Assolutamente sì No più che altro Volevo anche rilanciare Quindi poi Le permetto appunto Di dire ciò Che voleva Siccome era interessante Ciò che diceva La Fantozzi Riguardo a Chi ha votato chi Cioè Diciamo L'identikit Dell'elettore Ne abbiamo parlato Nella prima parte Ma in qualche modo Siccome lei Conosce molto bene Il tessuto sociale Italiano E anche Diciamo L'elettorato In qualche modo Sapere da lei Se l'analisi Che ha fatto Invece verso il PD Faccio una considerazione Breve su quello Ci mancherebbe Sul tema Immigrazione Io Non vorrei Che sottovalutassimo La facilità Di risoluzione Del fenomeno Ci sono E' come con l'ambiente Ci sono La teoria Dei negazionisti Quando si parla Di riscaldamento globale E di chi dice Non esiste Il problema E poi dice Magari E se ci fosse Sarebbe troppo difficile Da risolvere Perché bisognerebbe Esatto Sono quelli che dicono Il problema esiste Ed è molto facile Da risolvere Quelli diciamo Ambientalisti In realtà La risposta giusta È un problema Che esiste Ed è molto difficile Da risolvere Io sono convinto Che anche sull'immigrazione Bisogna fare Un'operazione verità Adesso che è finita La campagna elettorale Forse riusciamo a dirlo Senza essere tacciati Però lo diciamo Dopo la pubblicità Questo perché poi Voglio parlare proprio Di immigrazione Mi risponda soltanto Sulla questione elettorale Invece L'identikit E poi L'identikit Allora Sicuramente sì C'è un senso Di disagio sociale Di insicurezza Quando Censis Parla di smottamento Sociale Probabilmente identifica Una determinata Categoria di problemi Il tema vero È che Il grosso Di questo voto Di cui parlava la fantozzi Si è incanalato al sud Il sud Ha due regioni Puglia e Campania Che sono La prima E la terza regione Con il più alto livello Di disoccupazione giovanile Al sud C'è stato un blocco Forzato Delle assunzioni Del pubblico impiego Che di fatto Era un bacino Di creazione di lavoro Molto ampio Gli investimenti Produttivi Sono in buona parte Crollate Le aree interne Del sud Quelle che già Agonizzavano Di fatto Sono andate in fortissima Difficoltà Il fatto che si è cresciuta Sia la Lega Sia il Movimento 5 Stelle La sud È un segnale Di grandissimo malessere Di quella parte di paese Fondamentalmente Il centro nord Con Diciamo Un crollo Della sinistra Che è stato sussunto Dal Movimento 5 Stelle Allora vedi le Marche Spieghi il caso delle Marche Spieghi l'Emilia Romagna Con la forte crescita La Lega Ma è tutto Abbastanza fisiologico La parte che ha fatto Diciamo Esplodere Impazzire la maionese La parte che ha fatto Realmente creare un risultato Contro ogni attesa Di fatto Completamente Imprevedibile Un paio di mesi fa È un fortissimo grido Di rabbia Di rancore Di senso di rivincita Del meridione Che dobbiamo stare molto attenti Ora ci fermiamo Piccolo spazio pubblicitario E poi entriamo A gamba tesa Sul tema dell'immigrazione Che è quello di cui Abbiamo iniziato Già a parlare A tra poco Allora sentiamo un po' Il PD Ha perso Nel tempo Ed è stata una perdita continua Anche quelli che erano I suoi interlocutori di base I cittadini Ai quali si rivolgeva Normalmente Ed è una cosa che è successa Da Renzi in avanti Dal famoso 40% Da lì in avanti È stato un continuo calo Sono state continue sconfitte Dalle singole amministrative Che abbiamo visto in tanti comuni Dal referendum costituzionale E via dicendo Oggi alla fine Si è confermato Un trend Che era già in atto Da qualche anno E lo vediamo molto bene Poi su quello che è Anche lo spaccato di Milano Milano è Abbastanza significativo Il centro di Milano Municipio 1 Che premia il PD Tutte le periferie Invece che vanno Nella direzione Assolutamente contraria Il PD ha perso Completamente Quella che era La sua vocazione E non risponde più A quelli che erano I suoi elettori Non risponde più Ai bisogni della gente Non risponde più Ai bisogni degli italiani Perché Si sta dando E si è dato Sino ad ora Altre priorità Altri obiettivi Come per esempio La battaglia Che ha condotto Fino alla fine Sullo ius soli Si parla tanto Di diritti E si parla invece Un po' poco Di cose più concrete Quali possono essere Quali può essere Per esempio L'economia E il lavoro Soprattutto direi Lavoro Che è quello Che nel nostro paese Manca E manca anche qui In Lombardia Fantastico però Parla appunto Di un'invasione Che non c'è Rispetto invece a voi Che invece Siete dall'altra parte Parlare di un'invasione Che non c'è Mi sembra di vivere In un altro paese Io ho visto scene A Milano In stazione centrale Anche nei nostri comuni A Como Nella stazione di Como Nella mia stessa città Varese Che cosa sta cambiando? Non è cambiato niente? A me sembra che le cose Siano ampiamente Cambiate Perché solo fino a Cinque anni fa La situazione Non era questa Come vogliamo chiamarlo? Vogliamo dire Che non è un'invasione Che il fenomeno è gestito Che è facilmente gestibile Cioè Però le scene Che abbiamo visto Ce le ricordiamo tutti E quelle sono scene Di invasione Di un fenomeno Che è assolutamente Mal gestito E che provoca Problemi di insicurezza Ma non perché la gente Si senta Insicura E che quindi Stiamo solo parlando Di una percezione Perché? Perché si trovano Assembramenti Di 40, 50, 60 persone Che passano la giornata A fare nulla Ma perché poi Le retate in stazione centrale Ci sono Si verificano E lì abbiamo anche Dei reati che vengono commessi Di che cosa stiamo parlando? Cioè Non possiamo dire Che questa cosa Non esiste Non possiamo dire Che è un fenomeno Che non ha colpito l'Italia Altrimenti Anche gli altri stati europei Non si sarebbero Non ci sarebbe stata La levata di scud Degli altri stati europei Non avremmo visto Quello che è successo A Ventimiglia Non avremmo visto La Svizzera Che schiera l'esercito E riuscirete a mettervi D'accordo E a trovare Una misura Per risolvere La situazione Perché avete detto Sempre negli ultimi mesi Aiutiamoli a casa loro Da una parte Blocchiamo gli sbarchi Sono cose che Riuscirete a fare E soprattutto Cercare di capire Tramite la regia Di Berlusconi da dietro Ed eventualmente Salvini Premia Perché così Diciamo Le ultime dichiarazioni Sembrano vedere La struttura Del nuovo governo Il tentativo Il tentativo Certo Ognuno fa il proprio tentativo Quello ci mancherebbe Perché sulla regia Di Berlusconi Poi facciamo Io l'ho buttata L'ho buttata lì Proprio per quello Quello è un tentativo A suo modo Certo Le piace la regia Di Berlusconi Eventualmente Primo attaccante Dipende Dipende Da che cosa consiste Questa regia Primo attaccante Sicuramente Salvini Ma direi anche Qualche cosa in più Perché con il risultato Elettorale Parlare solo di attaccante E di Berlusconi Che tiene la regia Magari vediamo Di risistemare Anche un po' I pesi All'interno Di questa coalizione Dopodiché Questo non è Qualche cosa Che riusciremo a fare Qualche cosa Che dobbiamo fare Necessariamente fare Dal bloccare gli sbarchi Poi sembra facile Dire aiutiamoli a casa loro Nessuno dice Che sia semplice Però è anche evidente Che oggi La soluzione È bloccare gli sbarchi E che è una cosa Assolutamente fattibile Perché in determinati Periodi dell'anno Questa cosa È stata fatta Ed è stata realizzata Pensiamo semplicemente Banalmente Al G7 di Taormina Non c'è stato Uno sbarco Per tutta la durata Del G7 Quando si vuole Si può E allora È il caso Di mettere in atto Queste misure Cancellato Un consiglio Eventualmente Su le modalità Mi permetto di sentire Sulla facilità Della gestione Del fenomeno Il fenomeno è Estremamente complesso Da gestire Anche in presenza Di una Possiamo discutere Se è un'invasione o meno Ad esempio Possiamo discutere Sul fatto che noi siamo Se noi siamo Paese di transito Paese di destinazione In molti casi L'Italia è un paese Di transito ormai Di questi Richiedenti asilo Il problema Che non transitano Il problema Il problema È il benedetto Trattato di Dublino Che è stato firmato Anche quello In tempi dove Non si pensava Non voglio mettermi a dire Che Maroni e Berlusconi Abbiano firmato Diciamo la loro condanna Di 15 anni Perché se avessimo tutti La percezione Di quello che succede Dopo 15 anni Saremmo tutti dei fenomeni Però il trattato di Dublino È innegabile Che forse è la prima cosa Che il nuovo governo Dovrà fare E su questo Lasciatemi dire Forse un plauso Alla tanto odiata Angela Merkel Andrebbe fatto Visto che è lei Che ha posto la questione E che il Parlamento europeo E la Commissione europea Si stanno muovendo In quella direzione Sopra suppressione Della Germania Per cambiare Il trattato di Dublino Non certo Dei paesi di Wisergrad Che non lo vogliono Cambiare Il trattato di Dublino No certo Questo andrebbe detto È anche fantastico Che in tutto ciò L'Italia Però che sta subendo Quest'invasione Che si trova Paese di transito L'Italia Va benissimo Forse vorrebbero anche transitare Il problema Sono tutti gli altri paesi europei Che il transito Non lo consentono Nel momento in cui Il trattato di Dublino Viene in qualche modo Cambiato E l'Austria O la Francia Chiudono le frontiere Penso che noi abbiamo Tutto il diritto A meno che Schengen Non sia sospeso Ma non mi ricordo Non mi pare sia sospeso Nel frattempo L'Italia Può fare anche La sua parte Perché oggi La gestione Così come è pensata E così come viene realizzata Sui territori E quindi pensare Che i profughi Stiano mediamente Appunto Tre anni In un centro E in questi tre anni Sono liberi Di entrare Uscire Andare Venire E possono fare Ciò che vogliono E poi abbiamo anche Quelli che non rientrano E di cui si perdono Le tracce Questa è una gestione Tutta italiana Possiamo anche però A questo punto Raccontarla tutta Questa storia Perché se uno Parla con Persone che Hanno una Discreta conoscenza Dei paesi africani O gli capita di parlare A me è successo Recentemente a Bruxelles Con persone Che hanno In qualche modo Un legame Con alcuni governi Dei paesi africani C'è un tema Altrettanto rilevante Che molto spesso In qualche modo E la aiutiamo Le case all'ora È semplice Se io So Che un paese Mi aiuta a casa mia Se io non gli mando Più i migranti Utilizza la migrazione Come arma di ricatto Verso Verso i paesi occidentali Questo è un punto Quella della Libia Perché poi A un certo punto Una volta Che hanno ricevuto I soldi Poi La Libia stessa La Libia stessa Oggi Attua Un ricatto Non più economico Ma un ricatto morale Gigantesco In confronto dell'Occidente Perché i campi Libici In cui sono stipati I migranti Che non possono più O possono partire meno Verso l'Occidente Sono contesti In cui Che noi definiremmo Subumani E noi siamo quelli Che comunque Fanno lavorare A 1-2 euro All'ora i migranti A raccogliere i pomodori Quindi Non mettiamoci a fare I santerelli O le verginelle Diciamo In Italia Il tema vero Di questa situazione È che è Estremamente Più seria E grave E difficile Di quanto Pensiamo Che è Assolutamente Portatrice Di un disagio O di più disagi All'interno Delle nostre comunità Ma che è Veramente difficile Da risolvere Quindi Giusto porre il problema Forse Un po' Rischioso Dire Che la cosa Si risolve facilmente Come ad esempio Ha detto Berlusconi Se ne prendono 630 mila Si mandano a casa Non è così semplice Stare attento Voglio far entrare Fantozzi Nella discussione Perché Posso dire Ci mancherebbe No Le prima Ovviamente Alla possibilità Di dire Quello che vuole Le do questo Ulteriore spunto Perché si parlava Appunto Di disagi Disaggi che però Possono poi Avere una risultante Molto 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 Negativa E leggiamo L'articolo del giornale In questo senso Parla Di due giorni fa Firenze senegalese Ammazzato Spinto Insulti A Nardella Vai via Che cosa è successo Un ambulante Di nome Idiene Di appunto Nazionalità Africana E' stato ucciso Per strada Con 6 colpi di pistola Da un italiano Che possiamo Tranquillamente definire Anche squilibrato Nel senso che Era una persona Che ha cercato O meglio Inizialmente avrebbe voluto Suicidarsi E poi non avendo trovato Il coraggio Abbia poi dirottato Diciamo L'obiettivo In questo caso Verso questa Questa persona Ovviamente ciò Ha fatto scaturire Una forte reazione Da parte Della comunità Immigrata A Firenze Ci sono anche Una serie di immagini Che fanno vedere Della devastazione Portata appunto Da queste persone Che stanno manifestando In questo caso Contro La paura di razzismo Appunto degli italiani Insomma All'interno di questa discussione E' un Qualcosa che è successo Di cui si deve assolutamente Parlare Fantozzi Io volevo brevemente Replicare Alle cose Che venivano Dette prima Perché Il fatto Che Sui numeri Innanzitutto Se ci sono 181.000 Sbarchi Nel 2016 In tutto l'anno Su una Popolazione Di 60 milioni Di abitanti E se Un sistema Che ne accogliesse Tre ogni mille Abitanti Potrebbe dare soluzione Al problema Dell'accoglienza Ma ripeto 181.000 Su 60 milioni Di abitanti Vuol dire Che non c'è Nessunissima Invasione In corso Che poi Anche questi numeri Che non sono In nessun modo Da invasione Non siano In grado Di essere gestiti Perché le politiche Che si fanno Sono politiche Inefficaci Perché non vengono Distribuiti in maniera Omogenea sul territorio Perché c'è Chi ci lucra Perché non c'è Un modello Per cui noi siamo Di accoglienza Che sia massimamente Decentrata Insomma Perché ci sono Tutti questi problemi Non toglie Che non ci sia Nessuna invasione In corso Seconda questione Io voglio Rimanere umana Lo dico Allora Io penso Che rimanere umani Significa Che le persone Che scappano Dalle guerre Vanno accolte E significa anche Che vanno creati Canali Per l'immigrazione Regolare Di cui Un paese Come l'Italia Che ha avuto Un passato Di migranti Perché gli italiani Sono immigrati Nel mondo Per cercare Di migliorare La loro vita Dovrebbe essere Diciamo Qualcosa Che si comprende E certamente Noi non possiamo Non scandalizzarci Se siamo umani Per accordi Come quelli Con la Libia Che danno luogo A situazioni Che come Sono state Definite Sono situazioni In cui ci sono Omicidi Stupri Trattamenti Che sono stati Definiti Assolutamente Inumani Da Amnesty International Dall'ONU Allora Le politiche Che si fanno Sono politiche Sbagliate Vanno costruiti Canali Di immigrazione Regolare Vanno risolti E data accoglienza Ai profughi Dopodiché Si tratta Di porsi Il problema Sulle cause Strutturali Dell'immigrazione L'Occidente Ha una responsabilità Nella distabilizzazione Di aree del mondo Che hanno provocato Le guerre O comunque Diciamo Hanno aumentato Diciamo I conflitti Che c'erano Provocando Il fenomeno Dei profughi Così come C'è un problema Di profughi ambientali Che Dipendono Dal fatto Che ci sono Intere aree Di continenti Sicuramente Molto complesso Vorrei che mi Dessi una risposta Per quanto riguarda Ciò che è successo A Firenze Più che altro Perché ovviamente È molto complicato E le cause Sono tante E non possiamo Parlare qui Perché non avremo Il tempo a disposizione Però parliamo invece Di ciò che invece C'è più vicino E data appunto L'analisi Che lei ha fatto Il suo giudizio Invece Su ciò che è accaduto Gli scorsi giorni A Firenze Qual è? Io penso Che se si continua A dire Che il problema Sono gli immigrati Che il problema È l'invasione Cioè se c'è un certo Un certo ordine Del discorso Che diventa Il senso comune Nel paese Poi alla fine Che ci sia qualcuno Che è squilibrato E spara No? Come è successo A Firenze O come è successo A Macerata Succede E che ci vorrebbe Una responsabilità Di tutti Nel non fare questo La Lega Ha scelto L'immigrazione Come il canale Su cui appunto Fa sfogare No? L'individuazione Del capo espiatorio Nel migranti Su cui fa sfogare L'insicurezza Degli italiani Ma ripeto Quest'insicurezza Per chi Come me È di sinistra E pregherei Quando si parla Del PD Di non chiamarlo Di sinistra Perché il PD Di sinistra Non ha nulla Ha fatto politiche Sul lavoro Sul welfare Che con la sinistra Non hanno nulla A che vedere Il problema Dell'insicurezza È largamente L'insicurezza sociale E bisognerebbe Parlare dei problemi Veri di questo paese Ne dico uno solo In questo paese Le disuguaglianze Sono diventate Inaccettabili Ci sono quasi Cinque milioni Di poveri assoluti Questi sì Sono numeri da urlo C'è una fascia Di precarietà Un milione di persone E questo è il problema Le persone si sentono Insicure Prima di tutto Perché non sanno Qual è il loro domani Non hanno più garanzie Vengono licenziate E si trovano Con la pensione Lontanissima Fanno una vita Sempre più faticosa Perché i servizi pubblici Vengono tagliati Le politiche D'austerità Stanno creando Insicurezza In tutta Europa E non è un caso Che chi fa Quelle politiche Il PD Come la SPD In Germania Paga prezzi salatissimi Va costruita Soltanto perché Devo purtroppo entrare In fascia pubblicitaria Ci fermiamo Qualche minuto E rientriamo Per concludere La nostra discussione A tra poco Prima di sentire Viglianza è cancellato Su ciò che è accaduto A Firenze Siccome parlavamo Appunto del rapporto Degli italiani Con gli immigrati E con il fenomeno Dell'immigrazione Andiamo a sentire Che cosa ci hanno detto Dal mercato Nostro classico mercato Andiamo a fare Un po' di domande In questo caso Il tema È quello dell'immigrazione Disturbiamo No Perché dobbiamo disturbare? Il nostro paese Sembra quasi Che disturbiamo Noi italiani No Non disturbiamo Ma il problema È che sono gli altri Che forse disturbano noi Il problema Che non si riesce a risolvere In questo paese Per rimettere in moto Un po' tutto Il problema Per me Che si deve risolvere E mandare via un po' di gente Credo che deve essere regolamentata Credo che debba essere regolamentata E non come si fa adesso Che in Libia Non ci interessa sapere Cosa c'è da Non ce ne frega A noi basta che non arrivino È una vergogna È una vergogna È una vergogna E questi nostri politici Che cosa fanno? È tutta gente che viene qua E manda tutto là Solo che noi paghiamo qualcosina E loro non pagano niente Però purtroppo Il mondo si muove Come ci muovemo noi In Europa Capisco perfettamente Che non è la stessa cosa Non credo Che sarà facile Risolvere questo problema Facciamo insieme Lei vuole un microfono o un microfono? Io non voglio niente Eh aspetta Adesso non mi viene in mente più niente Aspetta un attimo Dovrebbero pensare un po' Agli italiani E dare la possibilità Che possano fare ai figli Un attimo Lo Stato Siamo noi Un attimo Per cui non prendiamoci Con i politici Perché la colpa è nostra Di tutto quello che succede Politici Siete dei pagliacci Sì Ha ragione Sì Perché ci prendono Tutti per il culo Alla fine La signora Riuscita a trovare Le parole Che stava cercando Brianza Rispetto a ciò Che ha sentito Dai cittadini italiani E rispetto invece A ciò che diceva Invece La Fantozzi Riferimento al fatto Che avete utilizzato L'immigrazione Un po' come capro Spiatorio Per poter Racimolare voti Non siamo noi Che usiamo l'immigrazione Come capro spiatorio Non ci serve questo Per racimolare voti È il sentore Delle persone comuni Di chi Tutti i giorni Vive in questo paese Da un mercato A una piazza A un commerciante A qualsiasi altra attività Noi abbiamo dei problemi Che sono serissimi Si parlava prima Di mancanza di lavoro Di mancanza di prospettive Per i nostri giovani Nel momento in cui Io dichiaro E non lo dichiara la Lega Che vengono spesi Per ogni profugo 40 euro al giorno E poi non ci sono Politiche serie Invece per pensare Al lavoro Per i nostri giovani Non ci sono politiche Serie per i disabili Abbiamo delle pensioni Di maledità Da 280 euro al mese Non è la Lega Che lo dice È la gente Che si indigna Davanti a delle cose Che percepisce inique Che percepisce non corrette E per quanto riguarda C'è successo a Firenze Come si posiziona? Ma ciò che è successo a Firenze Vogliamo parlare Di quello che è successo Anche del dopo Perché adesso Poi c'è stata in corso Di entrambi C'è in corso Poi una manifestazione Dove Abbiamo visto le immagini Si è anche devastata Una città Pensiamo anche A tutti gli altri fatti Altrettanto gravi Che sono stati commessi Che sono stati commessi Anche qui a Milano Fatti gravi Fatti di sangue Che sono stati commessi Da immigrati Succede Succede che una persona Assolutamente condannabile Non sto scusando Non sto giustificando Che una persona Commette un omicidio E come tale Parliamo di omicidio Voler dire Che tutto ciò Deriva da Una strumentalizzazione politica Da qualcuno Che ha fomentato Chissà cosa Direi di no Perché dall'altra parte Ne abbiamo avuti Anche tanti altri Di reati Senza andare tanto lontano Dobbiamo pensare Al caso di Cabobo Qui a Milano Che cosa è successo Dopodiché Possiamo dirci di tutto E oggi Pensare Che dietro a questo gesto Ci sia Razzismo O chissà Quale altra Quale altra Componente Credo che sia Credo che sia Eccessivo C'è un fatto vero Gli italiani Percepiscono Una disuguaglianza A loro sfavore Un bonus Nascite Di 40 euro Al mese Quando un profugo Mi costa 40 euro Al giorno È ridicolo Voglio sapere Da cancellato Per chiudere Perché stiamo arrivando Poi in chiusura Della nostra discussione Firenze Ciò che è successo Gli spunti che sono arrivati Appunto È razzismo O fascismo Oppure invece È semplicemente Una casualità E deve essere Annoverata Assieme per esempio A Cabobo O le altre cose Che sono successe Gli altri fatti gravi E questo io Ci aggiungo Un ulteriore dato Che è il cartello Numero 13 Che è l'aumento Di richieste Di portodarmi Rispetto invece Al fatto che ci siano Dei reati in calo Perché ovviamente Il tema dell'immigrazione È legato al tema Della sicurezza La sicurezza A quello della legittima difesa E quindi ci aggiungo Anche questo piccolo spunto Oltre il 18% Nel 2017 Sono le richieste in aggiunta Rispetto all'anno All'anno prima Questo però Con dei dati Che invece Dicono che In qualche modo Dei reati Sono in calo Francesca Pianza Prima diceva C'è una differenza Tra percep... Non c'è differenza O comunque La gente è impaurita Per fenomeni reali E non per una percezione In parte è vero In parte Noi partiamo Con un presupposto E con Dei pregiudizi Che di volta in volta Si alimentano In un senso E nell'altro Lo dico molto chiaramente La percezione Dell'italiano razzista Perché uno squilibrato Ammazza un ambulante Da parte dei migranti O delle persone Di colore E degli stranieri Insomma Adesso Diventa anche difficile Catalogare Senza sbagliare Che hanno buttato per terra Quattro fioriere In centro A Firenze È una percezione errata Si trattava del gesto Di uno squilibrato Parlare di devastazione Di una città Per quattro fioriere Buttate per terra È errato Erano quattro fioriere Buttate per terra Di devastazione di città Ne conosciamo Dovremo tornare a raccontare La realtà per quella che è Forse anche quello Secondo me Abbassare il volume Tutti Un pochino E parlare E dirlo molto chiaramente I reati sono in calo Ma la situazione Dell'immigrazione Non è gestita bene I migranti I richiedenti asili Non sono una cifra spaventosa Ma se la gestisci male Diventa comunque un problema Il tutto si inserisce In un contesto Con un mondo Che si è rimesso a migrare Non stiamo parlando Del 1990 Al 1980 Oggi la gente migra Molto di più Perché c'è una cosa Che si chiama globalizzazione Che in qualche modo Ha spinto le persone A muoversi Gli europei Migrano Dal loro paese A altri paesi Quanto gli africani L'unica popolazione L'unica parte del mondo In cui la gente migra poco Perché non gli piace Uscire dal proprio paese O lasciare al proprio alveo Fra l'altro 70% delle migrazioni Sono all'interno Di un paese E sono da campagna a città In Cina In Nigeria L'Agos aumenta Di 22 mila abitanti Al giorno Se non sbaglio Sono cifre pazzesche Questo mondo Che si è rimesso a migrare In qualche modo Ci coinvolge Ci bussa Le nostre porte Perché il Mediterraneo È una delle faglie Tra il mondo povero E il mondo ricco Non possiamo nasconderci Questi temi Allora Che ci dobbiamo occupare Di Africa In modo non colonialista Non paternalista Ma molto banalmente Ma restano in mani Ma come diceva Io la provocazione Che ho fatto In modo molto blando Noi abbiamo avuto Due tendenze Abbastanza schizofreniche Quella di prendercela Con le merci cinesi Perché abbiamo aperto I mercati E quella di prendercela Con i migranti Perché dicendo Dobbiamo aiutare la casa loro Aiutarla a casa loro Vuol dire aprire i mercati La globalizzazione Ma appena Vedremo 4 o 5 fabbriche Che dall'Italia Vanno in Libia Cominceremo a pensare Che abbiamo creato Un problema peggiore dell'altro Ripeto La situazione Non è di facile soluzione La critica generale Alla globalizzazione Sul presente Ha un fondamento Il ceto medio impoverito Chi ci ha smenato Nella globalizzazione Sono i ceti medi occidentali E su questo non ci piove E a questo punto Il risultante Alla base La risultante del voto È che la gestione Diciamo Normalizzatrice di tutto il fenomeno Ha prodotto Un disagio E questo disagio Oggi come oggi Anche quando non è Diciamo Eccezionale Sul singolo episodio Sulla singola situazione Prima Concentra l'attenzione Solo su uno Che messi assieme Creano un disagio sociale È chiaro È chiaro Mi sembra una disamina Molto chiara e puntuale Ci sarebbe da parlare E da discutere Purtroppo però Ho terminato E mi scuso anche Con la fantozia Che si mangiava un po' La penna Che probabilmente voleva Rispondere in qualche modo Io purtroppo Ho terminato il tempo A mia discussione Posso dire una cosa rapida Dieci secondi Che siano dieci Eh lo so Purtroppo è così Sull'emergenza sicurezza Gli omicidi violenti Erano 1142 Nel 1992 Sono 343 Nel 2017 Ovviamente Ogni omicidio è terribile Ma sono meno di un terzo E sulla disuguaglianza Vorrei dire Che Valletta Prendeva 50 volte Il salario di un operaio Marchionne Prende mille volte Il salario di un operaio Lo sappiamo Le persone che hanno avuto È drammatica E questa è l'emergenza Grazie mille Roberta Fantozzi Potere a Popolo In collegamento da Roma Grazie mille A Francesca Brianza Lega Salvini Lombardia Grazie a voi E grazie mille A Francesco Cancellato Direttore dell'inchiesta Punto it Per essere stati con noi Grazie a voi Per averci seguito Vi do appuntamento A martedì prossimo